benvenuti alla nuova puntata di assaggi norvegesi siamo in piazza gaolinti come l'altra volta e ci sono 175 gradi percepiti 421 forte morale perché non avrei mai fatto questo video da giorni devi coprire la faccia ok sono chiamati che mangiamo sempre quando andiamo a sì c'è un ristorante buonissimo è un po duro consistenza molto dura ma stai già facendo il video l'aspetto invitante si me lo ricordo magari sta dicendo parolacce non lo sappiamo scusatela è un po duro non so se è essiccato che cosa vero no io non do 10 do 9 perché mi piace molto caviar mills original original rido perché mills perché mi chiamano milla si sapere come i dentifrici ha un po l'aspetto di un tubetto io lo voglio in italia caviar lo voglio in italia ma che buono no una salsa buonissima nell'insieme è una tipo pomodoro e salmone ma non è tipo i rossi rio pate e quella basta ma volevo coprire qua basta giusto perché non abbiamo paura del covid e lei non sente i sapori io ho 8 7 e mezzo sono quelle porcherie che proprio ti mangi io no io ho io sono sempre 9 adesso guarda oggi ti alzi bravi norvegesi però adesso lo sento di più questo è forte sembra più buono perché non sento proprio niente è salato molto salato ancora mi piace di più questo ma perché non sento niente questo è la più vivacità è troppo salato per me darei un 7 però no buono comestibile sto cercando di allusare ma non sento al covid forse forse quello no non è vero non è vero eh quando mi guarda così è buono allora è tipo un po' farinoso ma ci sta perché comunque è un prodotto industriale però è buono è formaggioso sì lo mangerei volentieri sì sì normalmente questo è molto buono cosa la mia mamma ti assaggiava? grazie cioè te ne mangi a chili quando viene i giorni questo me lo scriverei in bocca questo è 9 allora io non me lo ricordo il sapore però mi ricordo che mi piaceva un piacettino ma ricordo lei ha un bel ricordo di questo se mi piaceva più quello con il salmone eh no non è questo no quindi io direi questo 7 e mezzo io do 9 a questo 9 wow ormai siamo siamo norvegesi comunque Carli Cabli Cabli deve venire pure in Italia eh eh questo è un altro molto buono ci porta sempre John allora io mi ricordo il sapore vago e questo mi piaceva molto di più di questo vai questo è uscito subito ok allora il destino oh madonna questo è ancora più buono una bomba una bomba questo ce lo lasci? a 9 9? e mezzo perchè l'altro ha dato 9 questo è vero? più buono questo questo è più buono quindi questo è 9 e mezzo non posso dare 10 perchè cioè non lo so allora io non sento sapori raga però da quello che mi ricordo è questo è tosta eh allora a livello visivo a livello visivo è tosta eh che non me l'aspettavo così eh si sembra proprio sud sud Italia sono favorevolmente colpito veramente? no me li capperi i capperi vabbè io che non sono uno chef mi mangio pure questo è così tada questo io lo amo non sento sapori di questo e non capisco dove sia il pesce è lì ma c'è il formatore mi sembra solo solo stampato nel naso allora se dovete comprare io vi suggerisco di comprare quello più grande che provate subito il pesce ah eccolo il pesciolino mi è piccolissimo ciao ho pescato un pesce non lo so davvero apprezzo lo sforzo starebbe molto bene con la pasta secondo me e ci aggiungerei qualche cappero si ha bisogno dei miglioramenti però sicuramente la base è un po' di pesce però vabbè ci sta cioè rispetto ai nostri standard può essere migliorato può essere migliorato però considerando che è un prodottino in scatola così eh ci sta ma c'è perché assolutamente discreto direi si poi piccolino così mi piace un sacco che è veramente monoporzione utile nel senso nella quotidianità marrone esatto no già sta roba è strana eh formaggio marrone che ne pensi? non voglio pensare beh l'odore del formaggio si proprio non è del formaggio è un po' diverso fammi un feedback ma siamo sicuro che è formaggio si si ma perché è brown? non capisco ma è dolce è strano ma a me piace piace tantissimo buonissimo perché come dici tu né dolce né salato mi piace però un po' strano non sembra un formaggio ma tipo yema sembra mmm ma veramente eh si forse il colore non ne so qual è un po' anche la consistenza ma che yema mangia ma non lo so perché non è non è salato per essere un formaggio raga sincera non mi cioè non mi sento e quindi non mi ricordo se mi piaceva non lo metterei mai dentro un panino oppure se è un formaggio quindi direi un mince e mezzo non saprei con che cosa mangiare no c'è una combinazione che di solito i norvegesi fanno e mangiano quello con marmellata anche mmm oppure marmellata e panna acida e questo e praticamente lo mettono anche nei loro pancake tradizionali al maggio va capito va va studiato come posso usarlo però sei sette ah sette e mezzo io sette e mezzo prodotto preferito di oggi mamma quello al bacon ma si può rimangere un altro po' sì sì certo vedete beh poi io no te lo devi e te invece Anto? devi tagliarlo preciso ok questo anche io cioè questi due allora io ho tre le cose più salutari della norvegia c'è io ho questo e questo ma nel formato vero con l'originale grande ok grandio grandio oh no ok ti piace questo video? se ti piace subscribe e diamo un like se vi è piaciuto questo video cliccate qui e qui e qui e qui e qui e seguiteci su Jerika no no vabbè no ma dai ma che video è per Zani il video ciao ciao ciao